Si sono disputati quattro match del tabellone degli ottavi di finale all'ATP Challenger di Roseto con il sole che è tornato a splendere sui campi del tennis club. La testa di serie numero uno, lo spagnolo Taberner, ha avuto la meglio sullo slovacco Kovalik con il punteggio di 7-6, 6-2, mentre l'altro spagnolo, Jimeno Valero, ha superato il croato Serdaruzic con il punteggio di 6-2, 7-5. Il primo italiano a raggiungere i quarti di finale è Arnaboldi che ha superato la testa di serie numero quattro il serbo Milojevic con il punteggio di 6-4, 7-6 e se la vedrà con il portoghese Nuno Borges che ha superato per 6-7, 7-5, 6-1 l'altro italiano Arnaldi dopo aver annullato un match point nel secondo set. Domani il clou con il match tra Luke Rosol, ex 25 al mondo, e l'azzurro Giannessi. Soddisfazione per la coppia tutta bruzzese nel doppio, composta da Giorgio Ricca e Andrea del Federico. I due tennisti della nostra regione hanno sconfitto in 3-7 gli indiani Balaji e Charan.